Voi siete dei migliori start-up italiani, rappresentate il futuro di fare impresa in Italia e nel mondo. Sapevamo che sarebbe stata difficile. Attività imprenditoriale è una sfida quotidiana. Noi abbiamo deciso di essere in pochi ma di provarci. Virus quando è nata era un'idea in luce, cioè cerchiamo di fare qualcosa per le start-up. Le start-up sono sempre portatrici di innovazione, di creatività, di una visione più moderna anche di fare impresa. Io credo nelle persone e alla fin fine investo negli imprenditori. L'investimento va a... L'investimento va a... L'investimento va a...